Matteo, quali sono le sensazioni in vista di questa semifinale play-off contro la Marcozzi Cagliari? Allora, abbiamo delle buone sensazioni, siamo molto carichi, non vediamo l'ora di incominciare questi play-off e penso che potremo fare molto bene. Affronterete la terza della regular season, quali sono le possibili insidie di questa sfida contro la Marcozzi nella quale avrete due risultati su tre a disposizione? Sicuramente, avendo due risultati su tre, siamo molto molto avvantaggiati, però è una squadra molto insidiosa, li conosciamo bene, loro conoscono bene noi e soprattutto Campos è un giocatore che può veramente giocare ad alti livelli e saremo veramente molto attenti e daremo tutto per batterli. Avrete di nuovo con voi il vostro leader Gioao Monteiro, poi ovviamente Smudenko, te e Marco, sarete tutti a disposizione per questo appuntamento e potrete contare anche sul pubblico qui di Villa Dante pronto a trascinarvi. Certo, il pubblico penso che fa una parte fondamentale, quindi è un ulteriore vantaggio che abbiamo. Cosa ha detto l'ultima partita che avete giocato contro la Puglia Carrara? Avete ottenuto un pareggio che non ha significato il primo posto in classifica, avete chiuso al secondo posto, però è stato comunque un pareggio importante. Esatto, perché fino a quella partita ci avevano sempre perso e quel pareggio ci ha dato quella fiducia e quella sensazione di poterli anche battere perché ci siamo andati veramente vicini e penso che se vincessimo domenica poi sarà diversa dalle altre partite. Partite